Ben trovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Bel tempo, il nostro territorio è tenuto però ancora sotto scacco dalla canicola africana che ormai da giorni interessa il nord-est. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto situazione tranquilla, la giornata di mercoledì 23 giugno sarà infatti caratterizzata da un tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo per qualche nube alta in transito che in montagna potrebbe anche portare qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano. Temperature roventi, minime tra 17 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra i 29 e i 35 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove di fatto avremo poche novità, tanto sole ovunque, contesto anche qui stabile, senza piogge degne di nota. Temperature minime tra 20 e 21 gradi, massime sui 31-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove sarà ampiamente soleggiato al mattino, dal pomeriggio invece avremo qualche acquazzone a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime infine sui 35 gradi. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.